Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha revocato le misure cautelari che erano state messe nell'ambito dell'operazione Icaros, condotta dalla squadra mobile di Crotone e coordinata dalla locale procura della Repubblica nei confronti di alcuni avvocati del foro crotonese. L'operazione lo scorso 17 febbraio ha portato all'arresto di 24 persone, di cui 15 in carcere e 9 ai domiciliari, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falso ideologico, traffico di influenze illecite. Il Tribunale del Riesame ha revocato i domiciliari per l'avvocato Irene Trocino, la cui misura è stata sostituita con la sospensione per sei mesi dall'esercizio professionale. Annullata completamente invece l'ordinanza del GIP del Tribunale di Crotone Romina Rizzo nei confronti degli avvocati Sergio Troilo e Gabriella Panucci. Il Riesame ha revocato i domiciliari senza disporre alcuna misura sostitutiva. Confermata invece la misura dei domiciliari per l'avvocato Gianluca Malena, mentre uno dei principali accusati, l'avvocato Salvatore Andrea Falcone, ha deciso di rivolgersi direttamente in Cassazione per contestare un vizio di legittimità. Torna libero anche il vigile urbano di Crotone Alfonso Bernardis. Il Riesame infatti ha annullato l'ordinanza di arresti domiciliari disponendo la sospensione per 60 giorni dal servizio. Anche per il gruppo di stranieri coinvolto nell'operazione, il Riesame si è espresso a favore delle difese rimodulando o annullando le ordinanze. In particolare per Rachida Lebbeaki, principale indagata tra gli stranieri, e per Safi Zada la misura cautelare in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari, mentre per i mediatori culturali Karim Marco Makwan e Ahmed Itzar la reclusione in carcere è stata sostituita dall'obbligo di firma.